Dottolo Mobili nasce a passo di Mirabella in provincia di Avellino nel 1980. Oggi, con i suoi 15.000 metri quadri di esposizione, è uno dei più grandi centri arredamenti a gestione familiare del sud Italia. Dottolo Mobili è un'impresa moderna, dinamica, in continua evoluzione. In poco più di un ventennio ha fatto passi da gigante. Con più di 70 collaboratori, 8 distribuiti negli uffici amministrativi e contabili e ben 25 addetti destinati al settore vendita diretta e progettazione di interni. Un team di professionisti costantemente aggiornati. L'area magazzino, un fiore all'occhiello, copre una superficie di circa 4.000 metri quadri. Tecnologia, macchinari industriali e la presenza di 10 tecnici garantiscono un perfetto stoccaggio e smistamento delle merci, sia in entrata che in uscita. Al più delicato ed importante compito delle consegne e montaggio degli ambienti, ogni mattina un'equip di 30 specialisti parte nelle più svariate direzioni, anche fuori regione. Una squadra questa, senz'altro tra le più qualificate e professionali del settore.